Per correre la 500, anzi la Fiat, si rivolgeva a un signore austriaco. Un certo signor Abarth, la 500 Abarth era la macchina pronta per le corse. Pensate, questa è del 1965 e questa è stata la vettura con cui ha corso anche Merzario e Cleire Gazzoni. Sì, avete capito bene, questi due grandi campioni, infatti è autografata, è una vettura estremamente competitiva, andava veramente molto molto forte. Guardate che è stata allargata lateralmente per consentire il montaggio di pneumatici più grandi. Ha gli interni completamente cambiati con un sedile da corsa, mentre il sedile è normale. E dietro, posteriormente, era tutta quanta aperta per far prendere aria al motore. Vettura molto molto competitiva. Da notare anche i terri ristrali che sono attaccati insieme, questo perché con la velocità altrimenti trovavano difficoltà. Grazie a tutti.